La monoposto del 2023 è un'evoluzione della macchina con cui abbiamo corso l'anno scorso, ma in realtà è stata tutta integralmente riprogettata. In aerodinamica l'obiettivo era duplice, migliorare il carico verticale guadagnando quello che è stato perso per i nuovi regolamenti aerodinamici e ottenere le caratteristiche di bilancio che ci eravamo prefissati. Anche il comparto sospensione è stato completamente ridisegnato, da una parte per assecondare gli aerodinamici e ottenere i risultati che ci eravamo fissati e dall'altra parte per aumentare le capacità di regolazione in pista della vettura. Le modifiche più evidenti della nuova monoposto sono sicuramente la sospensione anteriore, dove siamo passati da una configurazione con track road alto a una configurazione con track road basso guidato dalle esigenze dell'aerodinamica. Anche l'all'anteriore è diversa, così come la struttura del naso, avendo il primo elemento non più connesso con il naso, ma è floating. La parte del bodywork è più in continuità con quello che è stato fatto l'anno scorso, ma reso più estremo. Il budget cap è diventato un asse di prestazione irrinunciabile, quindi nell'affrontare la progettazione della macchina di quest'anno non abbiamo potuto prescindere da prenderlo in considerazione. Il modo in cui l'abbiamo preso in considerazione è stato quello di andare a determinare, cercare quelle aree con poco o nullo valore aggiunto sulla prestazione della vettura e cercare di tenere quelle zone della vettura uguali a quelli della macchina precedenti. In termini numerici il risultato ottenuto è stato che il numero di carry over nella macchina di quest'anno è doppio rispetto a quelli di una macchina con un regolamento precedente senza la presenza del budget cap. I nuovi regolamenti aero pensati dalla federazione per ridurre il rischio di sviluppare proposing in pista hanno portato a una perdita secca di prestazione aerodinamica, una perdita anche consistente. In termini di sviluppo il lavoro non è stato molto dissimile da quello svolto negli anni precedenti e abbiamo dovuto semplicemente riadattare le geometrie della vettura per le nuove strutture di flusso che si sono generati per i nuovi regolamenti.